Sono Francesco Tarabuzzi, lavoro presso la boutique Lardini di Milano in Via del Gesù e sono il vice store manager. Sono molto felice di lavorare per Lardini perché rispecchia anche quello che è il mio stile personale e che amo vestire tutti i giorni. L'uomo Lardini ama vestirsi bene ma con rilassatezza perché io trovo che per essere eleganti sia importante essere spontanei quindi indossare qualcosa che ci faccia sentire a nostro agio e che quindi si rifletta nei confronti delle persone che incontriamo tutti i giorni. Si riconosce perché ispira immediatamente un'eleganza tipicamente italiana data anche dai dettagli di stile, primo fra tutti il nostro caro fiorellino all'occhiello. Il prodotto Lardini è un prodotto altamente sartoriale dove ancora l'intervento dell'uomo è importante dove la mano si fa sentire su quello che è il prodotto finale. Grazie a tutti.